Si attratteniamo teoricamente a mondi diversi, ma non è vero, noi ci occupiamo tutti con amore di cultura e quest'anno lavoriamo assieme, linea d'ombra e sale d'ombra, e questa è già una prima cosa molto bella. A A A A A Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.